In attesa del closing che porterà il Milan ad essere del fondo americano Redbird Capital Partner, il Milan e l'area tecnica rossonera, nonostante qualche voce legata a Paolo Maldini, sta continuando a lavorare in maniera proficua per rinforzare l'organico in vista della prossima stagione sportiva. Una stagione in cui Milan vorrà alzare ulteriormente il tasso tecnico, vorrà alzare il livello della squadra per competere sempre di più in Italia, per essere sempre più forte e sempre più competitiva in Europa. E nonostante quindi questa situazione un attimino di stallo, il Milan si sta muovendo con grande anticipo rispetto alla concorrenza su diversi giocatori, soprattutto su questi talenti. E oggi abbiamo un focus particolare, stiamo parlando di Enzo Fernandes, giocatore molto talentuoso, giocatore classe 2001 del River Plate, lo conosceremo meglio in questo video, giocatore che ha tirato su di sé l'interesse di tantissime squadre europee. Sono interessate al giocatore le due squadre di Madrid, l'Atletico e il Real Madrid, è fortemente interessata la Juventus e l'Inter, quindi ci sono varie squadre che sono sulle tracce di questo talento. E sembrerebbe che il Milan sia un vantaggio perché proprio il capo scout dell'area rossonera, Goffri Moncada, è stato, ha fatto un blitz in Argentina, ha parlato direttamente col giocatore, ha parlato direttamente con l'entourage del calciatore. In questo momento il Milan sembrerebbe in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. E' ovvio, col cambio di proprietà e non essendo una priorità di calciomercato, ma essendo un investimento da qui al medio-lungo termine, le tempistiche si potrebbero allungare, si potrebbe in qualche modo rischiare di andare per le lunghe. Soprattutto perché l'interesse da parte di tanti altri club importanti è forte e quindi potrebbe anche il Milan rischiare di perdere il calciatore. Però al 29 maggio, dopo che Goffri Moncada è rientrato l'Argentina, le sensazioni sono positive. Il Milan è forte sul calciatore, ha già acquisito questo vantaggio grazie al blitz appunto fatto dal capo scout del Milan. Il giocatore ha una clausola rescissoria con il River Plate di 18 milioni di euro, una cifra che è sempre una condizione molto frequente in Argentina, quella delle clausole rescissorie, con una cifra che non è proibitiva, 18 milioni di euro, che mi dicono leggermente trattabile se potrebbe chiudere sui 15. Una cifra che quindi è alla portata del Milan ed è un giocatore, adesso lo conosciamo meglio, che potrebbe essere, possiamo dire, un altro di tanti giovani di belle speranze che poi possono fare quel passo, quel salto di qualità con la maglia rossonera. Andiamo ad analizzare quindi il giocatore. Il giocatore è un mediano, è un mediano dei più di buoni, nato nel 2001, quindi veramente molto giovane, 21 anni. È soprannomiato El Gordo perché appunto è sempre stato un po' paffutello, come viene definito così in Argentina e ha trascorso tutta la sua intera carriera nel settore giovanile del River Plate, nei Milionarios, dove è arrivato nel 2005. Quindi una carriera, una trafila all'interno delle squadre più forti, più blasonati, tutto Sud America e sappiamo quanto il River Plate sia una fucina di talenti, dove ogni anno escono grandi talenti. Sicuramente nei suoi punti di forza è un giocatore che ha una grande tecnica, una grande visione di gioco, ottime capacità balistiche, grande capacità di fare dei tiri da fermo, quindi molto abile anche nei calci piazzati, lanci lunghi, passaggi, intelligenza tattica, senso della posizione, recupero palla, ma soprattutto, e non può essere scontato in Argentina, grande, grande personalità. Nonostante sia molto giovane, ha una forte personalità che per chi fa quel ruolo, quindi mediano, mezzala, o comunque in generale come centro lampista, è fondamentale. Chiaro che un ragazzo così giovane ha dei margini di crescita esponenziali e tanti scout segnalano alcuni deficit su cui lui deve e starà sicuramente lavorando, che sono ovviamente deve rafforzarsi ulteriormente fisicamente, deve perfezionare il suo piede debole che è il sinistro, quindi deve rafforzare questo anche capacità di giocare con entrambi i piedi e soprattutto deve migliorare, soprattutto in un campionato come quello italiano, campionato fisico, deve migliorare tanto nel duello aereo, nel gioco aereo, è un giocatore che ancora sicuramente ha margini di crescita. È un giocatore che piace tanto al Milan perché può ricoprire sicuramente i più ruoli, può giocare mezzala, può giocare mediano, quindi può dare un ventaglio di scelta a Stefano Pioli. Stefano Pioli che il prossimo anno, con il probabile, spero, arrivo di Botman, potrebbe anche adottare in alcune partite la difesa a tre, quindi fare un centro lampo a cinque o fare un centro lampo a quattro con un trequartista leggermente avanti due centrali. Quindi questi giocatori d'utili con grande qualità e personalità possono essere sicuramente importanti. Staremo a vedere, Moncada è stato in Argentina, un blitz importante, il giocatore è affascinato di poter giocare nella squadra campione d'Italia, bisogna arrivare a dirlo, campione d'Italia. Staremo a vedere, è un giocatore interessante, ci sono tante feedback positivi anche sul web da parte di alcune agenzie di scouting che hanno in qualche modo definito un giocatore molto interessante, c'è chi lo paragona a Lukas Biglia, c'è chi lo paragona a Paredes, quindi giocatori, e dimentichiamo il Biglia del Milan, ma la Lazio era un signor giocatore, giocatori importanti, mediani, che sanno recuperare palloni, ma che sanno anche impostare con qualità il gioco. Sappiamo che il Milan ricerca un profilo del genere Aslani, Enzo Fernandes, qualcosa, qualcuno arriverà con quelle caratteristiche tecniche. Ecco un nome in più, Enzo Fernandes, un classico 2001, direttamente da Milionari, uscì direttamente da River Plate.